Oroscopo di mercoledì 2 novembre 2016. Ariete. Toro. Per tutte. Cancro. Se nei vostri piani c'è un riavvicinamento, è un buon momento per provare a tornare insieme. Leone. Se vivete in coppia, vi attende una divertente serata in ambito sociale. Potreste partecipare ad incontri, feste o cene con familiari e amici. Ogni evento si rivelerà unoccasione per spezzare la routine quotidiana. Voi single, troverete il tempo da dedicare ad un momento di riflessione ed introspezione, soprattutto per quanto riguarda la situazione sentimentale. Avviare un rapporto duraturo o continuare a mantenere la libertà? In ogni caso sarà una decisione che cambierà la vostra vita. Virgine. Quasi senza accorgervene, state portando ad una situazione di totale isolamento sociale il vostro rapporto di coppia. È il momento di prendere decisioni ed operare cambiamenti nel modo di gestire i rapporti con il mondo esterno. Se siete single, a partire da oggi inizierà una fase positiva in particolare per quanto riguarda lamore. Il flirt che condividete ormai da tempo, mostrerà segni di evoluzione. Potreste decidervi ad accettare la proposta della persona amata. Bilancia. Se vivete in coppia, una revisione del progetto che condividete col partner metterà in evidenza alcune criticità. Apporterete alcune modifiche che ne miglioreranno il percorso. In amore nulla può spegnere la passione che vi anima. Specialmente sotto le coperte. Amici single, contenete il vostro nervosismo se volete evitare linsorgere di dissapori con la persona che amate. Il vostro giovane flirt, ancora troppo debole, potrebbe soccombere alla forza di una lite. Scorpione. I successi che state realizzando potrebbero spingervi ad osare scelte azzardate. Una persona traffichina potrebbe coinvolgervi in un progetto rischioso solo per proprio tornaconto. Pianificate con attenzione gli step dei prossimi progetti. Se siete single, le occasioni di incontrare persone interessanti si susseguiranno nel corso di questa giornata. Anche se non troverete lanima gemella, assicurarvi un appuntamento per questa sera sarà per voi più che appagante. Sagittario. Non lasciatevi scoraggiare dal pessimismo che sta imperversando nella vostra vita di coppia. C'è in arrivo qualcosa di bello che porterà cambiamenti e vi permetterà di ritrovare il buon umore. Potrebbe trattarsi di un viaggio o una vacanza in una località speciale. Amici single, per voi sarà una giornata davvero emozionante che ricorderete per sempre. Capricorno. 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 Non si può certo dire che la vostra vita amorosa sia appagante. Nessuna novità per voi che siete alla ricerca dellanima gemella. A questo punto vi accontentereste anche di una storia meno importante ma, anche per questo, dovrete pazientare ancora un po'. .